Gnana a tutti gli Alpa che ne ascolto! Qui è di nuovo Lucia con la tizia che cammina in punta di piedi, chiamasi Hime, e con Pokémon Zaffiro Alfa. Benissimo signore e signori, ricordiamoci che nello scorso episodio siamo andati dal padre praticamente e che ci ha detto che dobbiamo andare a sfidare altra gente, quindi noi stiamo facendo un giro per adesso parlando con gente casuale Ma io gli ho parlato due volte, ma quale amico? Cioè io due volte io ho parlato, l'ho mandata a catturare un Pokémon e puff, è andato Farò finta di niente Questa parte esplorazione mi dà molto l'idea di Final Fantasy Dovrei fare qualche video su Final Fantasy, però sarebbe sempre in uno, capito? Perché magari lo faccio tramite Skype con Lu, però ho capito Io c'ho il programma che cattura dalla PlayStation al PC Però io c'ho la PlayStation 2 ragazzi, non c'ho la 3, io sono antiquata E sinceramente preferisco mille volte la 2 e la 3 Indebolisci i Pokémon, se le faccio prima di lanciare una Pokéball, ma va E lui che c'è la PlayStation 3, infatti adesso sta giocando a Dark Souls Gli è stato regalato, no? Perché l'ha volto lui, però... Ma fondamentalmente non è che sia tanto male come gioco Secondo me le persone si aspettano troppo dai giochi, un gioco deve semplicemente far passare il tempo Prenditi sta pozione Credo che il mio Pokémon è tornato in forma, sono molto felice, dai Magari un giorno mi ringrazierai dandomi qualcosa? Che cos'è sto posto? Si va a pescare Non c'ho voglia di mettermi a contro nelle case, nelle cose Però c'ho una Pokéball là sopra e io vorrei andarla a prendere, ma... Bacche! Prendiamo le bacche Tutte mie le bacche Yes sir E ripiantiamola, una bacca pesca Sì Poi Prendiamo anche la bacca arancia E la ripiantiamo perché se no non è assolutamente giusto una cosa simile Lasciate la sfida a molti soldi Ma se io non avessi i soldi non potrei fare... Non potrei gareggiare, non ho capito Allora Facciamo... Facciamo... Tu mi fai paura Facciamo sempre bracere Ero sicuro... No, questo mi fa male Se mi ricordo bene... Ah no, non mi fa niente Ero sicuro mi facesse un bel po' male E muore... Figlio di una meretrice No... Ti odio... Dai, chi l'hai? Che cosa ti ricarichi tu? Ma chi ti ha dato il permesso di ricaricare? Ma io non lo so C'è, 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 c'è Io voglio capire, c'è Chi ti ha dato il permesso di ricaricarti? Vedete l'uscita che sclera No, ho sbagliato Volevo fare azione Vabbè Va bene Sapete che c'ho voglia di fare Final Fantasy X? Non lo so perché Che da poco ho finito di nuovo il 9 Stavo facendo lotto Ma lotto Mi... Annoia Non mi piace per niente la storia del lotto Devo dire la verità Una volta ero fissata Poi ho appena ho capito Che era troppo piena di incongruenza Ho detto no C'è la mente detto Preferi... Piano Non potevo prenderlo per Alla sprovvista Il Pijamosche La te pareva che non era un Pijamosche Questo Pokémon che nella nostra lingua si chiama Nessuno Di caso il nostro... L'abbiamo catturato l'episodio scorso Non so se ricordate Certo questa sera va davvero a riletto L'abbè tanto io non è che voglio fare chissà cosa Tutte le altre cose No Eccolo là Nessuno Luciana Ma no dai Continuiamo con Fiammella Che la mia main deve diventare potenta Potenta devi diventare potenta Proviamo con un graffio Vediamo quanti graffi ti faccio Uè a metà No Questo Ecco E' diminuito la velocità Sei davvero 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 cattivo Sei proprio un cattivo ma senza pietà Vurple Ma no Non voglio cambiare il Pokémon Sempre sto Vurple Non so Io li chiamo in modo strano Perché odio le pronunce inglesi Quando non riesco a individuarle Perché ci sono alcuni nomi Alcune parole che sono facili Altre invece tu dici come cavolo si pronuncia questo Ma nemmeno loro lo sanno C'è un'amica canadese che non sa la differenza tra tu Quei nomi con la TH praticamente Pensavo Attraverso Sembrano tutti uguali Infatti nemmeno lei riesce a pronunciare bene La cosa è alquanto divertente Questo sembra uno scienziato pazzo No È un fungo dal nome scommetto Che cavolo Ma che cosa Va bene Va bene Lottiamo Bruto che non sei altro L'effetto però è stupendo ragazzi Mi piace un casino l'effetto Chi è che mi scrive su Facebook adesso Aspettate Allora Eh Aspettate due secondi Allora Vediamo di buttarlo giù subito Questo figlio di una meretrice Sta anche scaricando la videocamera Maledizione Dai muori No si sta scaricando Dai Almeno questo lo battuto Sì ok Mi sa che è meglio che la metto un attimo a caricare E salvo il gioco Si Si Eh No si sta scaricando la notte un attimo a caricare Iscrivito No si sta scaricando la notte un attimo a caricare Non si sta scaricando la notte un attimo a caricare E' meglio che la notte un attimo a caricare Grazie.